Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Sick Melo e siamo qui in un nuovissimo video, siamo a Napoli Sì, questo è il mio primo video vlog Siamo qui, il mio nuovo video vlog, perché è bello, sarà a Napoli, quindi vi farò un video per ogni giorno per 7 volte Lui è a Sick Guaro Sick Guaro E niente, ci vediamo dopo quando mangiamo la pizza, vero? Oppure quando la ordiniamo Lui è Serpico Ciao, e questa è la partita Stiamo chiamando per notare la pizza Tu quale vuoi di pizza? Oh, Fabia Ruiz, che gol! Di sinistro Stupido, ho fatto pure i gol, che volete? Porca miseria, che gol, bello No, ha tirato un gol al giro molto bello Grande Fabia Napoli Proprio quello del Napoli Rosso o bianco? Rossa Cioè, guardate, boom, certo Non lo attacca nessuno, perché non si sa perché non lo attacca nessuno Però, beh, è il sinistro al giro Bello Cioè, guardate che sinistro al giro ha fatto Bello Comunque, ci vediamo quando prendiamo la pizza Tu quale prendi? Margherita Margherita Segui, se ti pari Io so se c'è patatine Lo sa A dopo Ma che problemi Perché c'ha problemi questo? Cioè, poi vorrei vedere il fisico Guardate che fisico, vai Mamma mia So che le ragazze stavano tutte a vomitare a questo punto, però Attira i fuochi d'artificio, ragazzi Cioè, non so se voi lo vedete, però Vedete i lampi laggiù Tutti i fuochi d'artificio, bellissimi Abbiamo ordinato la pizza Luca Tu come l'hai presa, amici? Sto giusto a fuori Bro Adesso segnala Germania Ha segnato il tuo idolo Fabia Ruiz Sei contento? Non mi sono riuscito a punto Eh Se lo vedrai sul mio canale Luca, lo metti quel ventilatore A dopo Cassione Germania Cassione Germania Cassione, molto bello Germania proprio Germania Sa attirare Capito raga Sa attirare Sa attirare Ma andate a riuscire a pizze Bombo, ti capite da quanto tempo stiamo aspettando? Capita Niente, lui oggi è morto Ma dentro l'ora tu Ma dentro l'ora tu Quante ore hai dormito? Pochi, pochi minuti No, perché io a un certo punto Mi giro Stai sveglio Secondo me Mi giro Dormi 15-15-19 Ma andiamo anche 10-14 Vabbè, però un po' hai dormito Un po' ti sei riposato Noi è mai meno Bombo, domani raga Andiamo a fare spese Perché a casa non c'è niente Se no non stavamo qua Aspettare la pizza Vero? Dopo una sera Occasione? Dopo una sera Andremo a prendere il panino Dalla braccia Qui sotto Perché è buono Non si vede niente? Boom Non si vede niente? Vabbè Giusto? No, non è vero Forma C'è il bai Non mi toccasse il baios È mio E questo Questo Sì, direi proprio che fallo Tu c'hai il problema proprio Dunque raga Spero che arriveranno Le pizze Quindi ci vedremo Se arriveranno le pizze Ciao È troppo stanco Mi spero Ok raga È finito il primo tempo E le pizze ancora non sono arrivate Yes Seee No, non è se C'ho una fame Della miseria Questa è di voi però, eh Ma se sì Comunque una della Spagna Mimmo sto registrando Sì sto registrando Io sto registrando Mi sta scaricando Le azioni a catena Bravo Quando arriva se vizze Oh pionte No C'era pionte Vabbè comunque raga Quando arriva se vizze Si vede sotto i commenti Sì Sì sotto i commenti Sì sotto i commenti 21 e 32 Fortuna che voi vedete Tutta taglia in due secondi Perché se voi non potete capire quanto Io taglio Passa mezz'ora Poi taglio Poi passa un'altra mezz'ora Io ho tagliato Poi passa un'altra mezz'ora Poi taglio ancora Passa un'altra mezz'ora Un'ora e mezza E voi vedete 5 minuti e 33 di video Comunque Luca Allora Luca secondo me Non la mangia la pizza Perché tanto ha mangiato Il ringo Che è un ciccione Io non ho mangiato niente Anzi no Ho mangiato un panino Con la salame E niente Speriamo bene Perché se no qua Le pizze non ci arrivano Eh ragazzi Sono arrivate le pizze Hanno suonato Ma vediamo Chi le va a prendere Sono arrivate Tanto tu non mangi Ne mangi solo una fetta Che è la più buona Finalmente è arrivata Sono le 21 e 42 È arrivata dopo 50 minuti la pizza Oh stai calmino No è caduto Oddio Luca Ho flippato Ho flippato Arriviamo Ecco le pizze Ciao Sono arrivate le pizze Raga Le pizze No Allora fammi vedere Questo che è No Questa è la Naturalmente la margherita Poi Vediamo Primo Adesso sarà l'ultimo Sicuro Guarda Esatto Esatto E' sempre Poi E poi La mia L'ultima Eccola L'ultima No No Dai Ma ho fregato Una patatina Sto stromso viva la zerbaigian viva la zerbaigian ma mi piace la zerbaigian via aspettate no basta eccolo qui eh si però lo fate apposta comunque questa è la pizza le pari su paradina ricatti che cazzo sempre dalle qua la navola ci vi darò sempre di stessi hai rotto le scatole? chiesto che è il congelato eh c'è la luta vai aspettami Luca Olmo Olmo 2 a 0 per la mia spagna 2 a 0 questo volevo rigore ma la spagna gioca il portiere non c'è la che è 0 a 4 ma non gioca a titolare manco si visto bello bella sta parola al portiere Olmo poi come la messa la messa di la messa di interno o coscia? con Gugino o chi la ducata? Olmo si comunque pizza mangiata sto pieno Luca ha mangiato la pizza no no ah sta ancora lì 2 a 0 per la mia spagna riva il portiere è fustissimo il portiere è fustissimo vediamo se c'è il var o la var dipende scrivete qua sotto i commenti se voi dite la var o il var tu come dici il var il var no io dico la var no perché mi sta più oh ma quella quanto entra quella è da mezz'ora che sta là vabbè comunque facciamo l'auto perché tanto ormai pizza mangiata la partita più o meno manca 20 minuti siamo tutti seduti se il video vi è piaciuto commentate iscrivetevi nooo non sai fare l'auto se il video vi è piaciuto pollicione in su commentate con il video senza essere iscriviti e poi subito se volete se volete se volete se volete